salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono dragon of x siamo qui con un nuovo episodio di star wars come abbiamo visto nel precedente siamo un po scivolati da questa parte e adesso dovremo cercare un'altra via per continuare la strada ci sono varie zone esplorabili il punto è di là volevo sapere se scendendo qua vediamo un po cosa cosa succede ecco abbiamo già questi maledetti aia sono maledetti questi vani via saranno altri li abbiamo fatti fuori cosa vabbè questo cosa è questa cosa qua vabbè cosa bd ah è che cavolo ok abbiamo altri divani scansione a bd si ok frutto brulla intorno qui non mi sembra che ci sia ganchè allora abbiamo un po uccisi tutti cosa ho un nuovo seme buono siamo a 7 siamo a 7 piante che non è male allora dove possiamo risalire qua da qua non si risale e anche da qua qua ah ok va bene perfetto allora da dove da dove ce ne andiamo adesso abbiamo un po di strade anche quella io direi di di fare quella perché è l'unica vediamo dove dove ci porta questa strada qua è chiuso ah ecco abbiamo qualcuno da affrontare qua ce ne sono altri spero di no oh lei c'è qualcosa però un momento un momento si può passare di qua si eh scusate stavo perdendo questo richiamo ah il viandante piance come si può sopravvivere qui eh allora immagino che dobbiamo scendere da questa parte infatti guardiamo un po' via 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 è davvero potente questo eh mamma mia via 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 sempre ahia siamo incattati ahia maledetto vabbè lo abbiamo comunque ucciso in qualche modo allora bene qua c'è un richiamo che andiamo a prendere e a recuperare ah è interessante allora abbiamo tre cose qua cosa c'è aaaaaah mamma mia quanti sono via 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 mamma mia allora eh si accedi pure vediamo cosa cosa troviamo qua vediamo cosa hai trovato un nuovo poncho tanto per cambiare va bene niente allora là c'è qualcosa cosa però lo richiamo prendiamocelo una nave si è schiantata fuggivano da qualcosa eh la nave è precipitata ma qua c'è qua giù si può scendere ma allora da che parte abbiamo da salire però c'è quell'altra zona che dovrebbe essere da questa parte ho visto passare un ragno aia mamma mia no via no vabbè noi li facciamo combattere un po' tra di loro ecco perché non c'ho tanta vita lì c'è un'altra casa chi è mamma mia mamma mia punto aia ok ok l'abbiamo fatti fuori in qualche modo va bene di qua è al punto di prima vediamo un po' questa cassa va bene non è frattempo che loro combattono ci facciamo questo ha vinto cerchiamo di esplorare più o meno tutto qua vediamo un po' andiamo da questa parte lì c'è un c'è quello che forse ci potrebbe far salire vediamo un po' in questa parte cosa troviamo troviamo a lui aia 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 ok ci ha fatto bene farlo combattere cos'è scansiona ah un nuovo seme siamo a 8 ho detto di portare semi speravo dicessi da data 8 semi va bene siamo riusciti a sconfiggerlo questa è cosa buona e giusta però vorrei capire se qui possiamo fare qualcosa di diverso da qua non si può salire cosa BD cosa ancora scansiona sta scansionando il mondo si vediamo anche no allora qua c'era la zona di su che ancora non avevamo controllato tovia dovremmo andare da quella parte giusto si però vorrei provare visto che adesso sono un po' deceduti vorrei provare a salire non da qua bene vediamo qua cosa cosa possiamo trovare oh non arriva ma ma perché mi sei scappato così e tu no ok tutto tutto questo per per che cosa da quell'altra parte cosa c'è vediamo e da questa parte non c'è nulla va bene ma da qua volendo si può andare vabbè che non ci serve nulla proseguiamo da qua vediamo un po' dove ci porta o' la c'è qualcosa possiamo anche saliti qua su no di qua non possiamo andare allora c'è una cassa lì spero che apriamola vuoi controllare sì diamo un'occhiata dopo interruttore va bene quindi da questo punto dobbiamo andare da questa parte questo cosa vuol dire ma da qua possiamo andare oh qua c'è un punto abilità non un punto abilità un punto di salvataggio no è un eco va bene noi ce lo prendiamo questo eco le sorelle della notte erano capeggiate dalla madre la sua magia era potente ecco la madre sinceramente allora questa qua cosa dovremmo fare ah ecco che ovviamente devo vabbè ma qui non c'è nient'altro volendo no va bene allora allora vediamo un po' nonna proviamoci ragazzi perché dai dai niente e niente ancora ok ce l'abbiamo fatta in qualche modo siamo riusciti a salire cosa buona e giusta e qua cosa succede oh mamma mia liberate il filo da torcere in che senso dobbiamo affrontarlo ma anche no dov'è è andato via mamma mia ai no mi hanno fatto riscendere bastardi ma non so se avete visto adesso ci eravamo riusciti dobbiamo risalire per colpa di quei due che ci hanno ributtato giù eh niente eravamo riusciti a salire e ancora niente bello calco sì vabbè vediamo un po' per colpa di che Ok Ce l'abbiamo rifatta Siamo risalendo dopo che quelle due ci hanno Spinto di nuovo giù Dai 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 Uccidilo Aia Via Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo saliti fin qui E adesso Cosa cosa BD1 Scansiona Cosa sono Vabbè Ovviamente qua Non si può salire Niente Va bene E' raggiungibile Quindi Noi dobbiamo andare su Noi dobbiamo andare su Eh Lì c'è qualcosa Noi dobbiamo andare su Noi dobbiamo andare su Noi dobbiamo andare su In massa Stanno arrivando tutti in massa Lì c'è un punto di Di salvataggio Ok Ok un altro fatto fuori Fatto fuori Ok Abbiamo fatto fuori E qui ci abbiamo Un eco Non c'è posto Non c'è posto per te Da quella parte Vorrei capire se possiamo raggiungerlo Ma Non penso O forse si Lì eravamo giù Prima Quindi no Andiamo da questa parte Perché penso che sia Sì da questa parte Proseguiamo ragazzi Qui Sul pianeta D'Atomir Un pianeta davvero Affascinante Per come Per come è fatto Qua può salire? Sì Ma possiamo anche tornare indietro Allora Andiamo da questa parte Cosa abbiamo qua? Una scorciatoia Ma volendo potremmo andare a salvare Di là Perché noi dobbiamo andare di qua Penso di sì Ok Siamo tornati qua Dove sicuramente ci saranno I nostri amichetti ragni Ma noi dobbiamo andare Qua a meditare Perché abbiamo bisogno Bene Bene ragazzi Abbiamo meditato Stiamo meditando Meditiamo Ecco appunto Abbiamo anche due punti Di abilità Vediamo un po' Se possiamo metterli E dove possiamo metterli Allora La forza massima Di Kalla Aumenta E non sarebbe male Un valentamento esplosivo Potremmo anche aspettare Questi sono da tre punti Lancio potente E da due Questo Un'attazione potente Che trascina gruppi di nemici Verso Kalla Però questa Non mi ispira Tantissimo Qua invece Cosa abbiamo? La schivata di precisione Ecco Questa Non sarebbe male Anche questo Non sarebbe male Però io penso Che la schivata di precisione Potrebbe esserci Utile Quindi la prendo Potrebbe essere Un'abilità utile Allora ragazzi Noi Ci fermiamo qui Per questo episodio Dobbiamo proseguire Verso Adesso dobbiamo tornare su Dobbiamo tornare qua E salire di qua Andare da questa parte Quindi per adesso Noi ci fermiamo Il punto di ritrovo è questo Ci stiamo avvicinando Sempre di più Quindi ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi E se vi è piaciuto il video Grazie.